La cosa che vorrei registrare è che c'è un interesse sempre più forte dei vostri colleghi internazionali, europei, ma anche di oltreoceano a comprendere che cosa sta accadendo a Napoli. Non c'è più la domanda che 4-5 anni fa era ricorrente, anche quando qualcuno faceva un reportage, era il reportage sempre tagliato sulla solida narrazione. Oggi c'è anche la domanda, sempre su Gomorra, per fare un esempio, ma quello che vogliono sapere è come è accaduto il riscatto di questa città, come viene raccontata la partecipazione popolare, qual è il segreto del modello Napoli e questo ce lo chiedono i giornalisti tedeschi, belgi, francesi, statunitensi e da ultimo una lunga intervista al New York Times dove ci siamo concentrati sulla città, ma anche sul modello politico che Napoli sta rappresentando per l'Italia e per l'Europa. Quindi questo è importante non per me, è importante per la città, importante per la città e per il protagonismo che questa città e gli abitanti stanno avendo. Credo che il fatto che negli ultimi mesi sia molto cresciuta l'attenzione internazionale ci fa pensare che il racconto di Napoli sta profondamente cambiando, sia perché anche l'informazione comincia a dare una lettura più plurale e corretta della città, ma anche perché le centinaia di migliaia di persone, anzi i milioni di persone stanno venendo in città, che cosa fanno quando ritornano nelle loro città, nei loro borghi e nei loro paesi? Raccontano la città che hanno visto e quindi questo sta producendo un riscontro fortissimo e tanta altra gente viene a Napoli a vedere che esattamente in questa città, come dicevamo prima, convive un riscatto materiale attraverso un riscatto popolare, morale e dell'umanità ed è per questo che secondo me noi dobbiamo sempre di più andare in questa direzione.